L'emergenza legata al coronavirus e le conseguenti disposizioni nazionali, regionali e comunali che hanno portato allo stop di tantissime nostre attività quotidiane hanno anche portato alla decisione di mettere in pausa quella non del tutto prevedibile che si distingue che dei vigili urbani di Alessandria di non attuare lo sciopero programmato per questo lunedì 2 marzo. Le motivazioni sono in un comunicato ufficiale a più firme quella di tutti i sindacati che hanno proclamato lo sciopero, ovvero CGL, CISL, WILM, ancora SULPM e CSA organizzazioni che spiegano che a seguito della situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare sul territorio nazionale dispongono la sospensione temporanea del previsto sciopero indetto per il 2 marzo fino a data da destinarsi a seguito appunto degli sviluppi dell'emergenza. La decisione è stata presa con senso di responsabilità dei lavoratori del comando verso la città già fortemente penalizzata dalle disposizioni impartite dagli organi di governo. Naturalmente non si può che sottolineare ed esprimere gratitudine per questa decisione del Corpo di Polizia Municipale. Intanto stamattina c'è stata la riunione già prevista con l'assessore alla Polizia Municipale di Alessandria Monica Formaiano che ha proposto nuove soluzioni ma che riguardano solo la questione della reperibilità.